i complici dell'uomo salvatico il commendatore quattro stomachi purtroppo non è più mentre dopo il solito pranzo luculliano stava poppandosi il solito avana profumatissimo colpito da paralisi cardiaca senza poter dire neppure oi fece la morte del giusto era banchiere e senatore per censo la natura gli aveva donato un appetito da lupo e uno stomaco distruzzo il suo peso oltrepassava felicemente il quintale essendo venuto su dal nulla cosa della quale si vantava spesso ed avendo realizzato una favolosa fortuna non ha torto stimandosi degno d'adorazione aveva incominciato lui per il primo ad adorare se stesso ma era ammalato di troppa salute e sebbene questo morbo non sia ritenuto letale fu il solo che ebbe la forza da battere quella bastiglia di lardo in questo libro per quanto indegnamente ma con l'intenzione purissima di onorarne la venerata memoria si registrano detti memorabili e ricordi del lacrimato commendatore